ciao a tutti e benvenuto a un nuovo video dell'impero delle tenebre quest'oggi voglio parlare di un model kit dedicato alla linea san goku den della bandai ovvero il romanzo dei tre regni in versione gundam si tratta di gunpla sd che vanno a ricreare una fusione tra i classici gundam dei cartoni animati e i personaggi miticizzati diciamo del romanzo dei tre regni in stile dynasty warriors quindi con l'asurao makoku gundam abbiamo un kit con tre personaggi o meglio con tre kit che vanno a ispirarsi al god gundam e ai suoi diciamo comprimari la cosa bella appunto il model kit principale con le varie trasformazioni così come il nobel gundam che anche qui è possibile trasformarlo nella versione diciamo assatanata per così dire si tratta di un kit con anche il mezzo di supporto che può essere trasformato sia in veicolo che in mammut infatti questo rappresenta uno dei personaggi diciamo dei clan esterni che ha anche la possibilità di fondersi e unirsi in una sorta di power armor così da avere in un unico kit il 28esimo della serie e diciamo in pari passo il 335 della linea bb henshi che va quindi a creare un di per sé un piccolo diorama con un sola una sola confezione il fatto che non sia poi particolarmente costoso e comprenda ben tre kit trasformabili tra di loro e assemblabili anche lo rende a mio avviso uno di quei modellini davvero intriganti da avere se siete appassionati di questo genere di cose di qua ci abbiamo un bel po di adesivi perché naturalmente essendo sd di vecchia generazione non ci sono tante parti colorate però in realtà il molding delle plastiche diciamo presenta un bel livello di dettaglio e chi vuole andare a colorarlo a rifinirlo avrà un bel po diciamo di cose con cui sbizzarrirsi proprio il fatto che ci siano così tanti dettagli così tante rifiniture a mio avviso lo rende un kit davvero interessante proprio per il fatto che molti sottovalutano gli sg perché costruendogli a secco anch'io devo ammetterlo si va ad assemblare un kit spesso inferiore non solo alle aspettative ma anche alla pubblicità chiamiamola ingannevole della bandai che mostrava foto di una qualità decisamente superiore invece bisogna dire che quella qualità può essere raggiunta e anche superata proprio perché i dettagli rilievi diciamo i particolari questi kit super deformed li hanno anzi in molti casi soprattutto a parità di prezzo hanno più dettagli questi kit deformed che non i kit hg di un tempo proprio perché soprattutto per i giapponesi gli super deformed hanno un valore molto importante profondo nella cultura anche video ludica basta pensare che gran parte dei giochi dedicati ai gundam soprattutto quelli strategici sono deformed i vari super robot wars in generale sono deformed e appunto abbiamo qui due kit come componentistica di vecchia generazione basta vedere quale polycap delle articolazioni però con davvero un bel po di dettagli tra cui anche queste plastiche gloss metallizzate non solo per i diademi ma anche per i capelli del nobel e le plastiche clear per l'effet e per la spada quindi è una cosa davvero molto intrigante se come dicevo volete andare a rifinire i dettagli a valorizzare tutto quello che permette questo kit avrete un bel po da divertirvi considerando appunto che all'interno ci sono ben tre modelli che presentano un bel po di lavoro da fare però proprio per questo stuzzicano la mia voglia di creare perciò trovo che soprattutto per il prezzo davvero esiguo che ho pagato questo kit ci sia un bel po da fare un bel po da divertirsi proprio perché si tratta di ben due gundam e mezzo per così dire di puro divertimento il l'unica cosa il manuale di vecchia generazione perché è un kit non so se qua adesso lo riesce a mettere a fuoco del 2009 è un kit quindi molto vecchio che va comunque ad assemblarsi bene l'unica cosa presenta questo manuale vecchio stile con il fumetto che presenta il personaggio crea tutta la sua storia e però è scomodissimo eccolo aperto tipo cartina per diciamo essere consultato agilmente infatti si tratta di un manuale veramente scomodo da consultare però che almeno sul retro presenta tutte le varie parti di costruzione e la parte finale ci illustra come ricombinare i pezzi per poter appunto trasformare i vari veicoli e unirli tra di loro così da avere poi la configurazione completa insomma è un bel kit non costa tanto è certamente un modello per appassionati come me che amano i deforme e soprattutto non si fanno scoraggiare da un po' di lavoro extra e quindi nonostante sia appunto un sd io non lo consiglio a tutti si tratta appunto di un kit dedicato pensato per chi vuole lavorarci sopra perché al naturale non rende un granché quindi io lo sconsiglio ai neofiti ma lo consiglio invece a chi vuole provare a fare qualcosa di più quindi agli amanti appunto anche degli sd o del modellismo che vogliono andare a creare a rifinire il loro modellino per averne quindi una versione migliore di quello che viene fuori normalmente purtroppo difficilmente a livello base appunto verrà fuori qualcosa di simile a queste foto che hanno un livello di dettaglio davvero eccessivo per le parti diciamo che abbiamo visto al naturale però bisogna ammettere che la potenzialità per diventare così ce l'ha quindi chi ci lavorerà poi sopra potrebbe riuscire a crearli o fare anche di meglio ed è proprio questo il bello del modellismo la possibilità di creare e di migliorare quello che abbiamo tra le mani perciò a me questo kit ha interessato sin da subito soprattutto come dicevo per il fatto che ci sono tre modelli e hanno davvero degli ottimi dettagli con le parti intercambiabili trasformabili la fusione tra di loro quindi è davvero un bel kit interessante se poi amate dai nasty warriors è un must per appunto gli appassionati e quindi io lo consiglio solo a chi vuole sbattersi vuole comunque fare qualcosa di più però lo consiglio quindi se poi volete vederne la realizzazione seguite il blog imperodeletenebre.blogspot.com così da vedere le foto dell'unboxing della costruzione di questi tre modelli per adesso quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video grazie 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 grazie